Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Vare Giosley Kevin e oggi vi propongo un nuovo vinile. Vi propongo un album fortemente ispirato dai film di Alfred Hitchcock. Questo è Notorious dei Duran Duran, il loro quarto album in studio pubblicato nell'86, prodotto da Nile Roger. Da quest'album vengono estrati tre singoli, uno nell'86 e gli altri due nell'87. Le tre canzoni ispirate da Alfred Hitchcock sono Notorious, Vertigo e Hold Me. Questo è l'album come si presenta, la copertina, guardate che belli, Nick, Simon e John. Ma guardate, Nick, quanto è bello, perché sì, io sono innamorata di Nick. Questa è il davanti e questo è il retro. Se non l'avete ancora ascoltati, fate male, perché durando un anno vanno ascoltati. Come sempre, vi lo consiglio un sacco. Quanto è bello, Nick. E al prossimo vinile.